E' go! Iniziamo a dire, il nostro gioco è Giammino! E' una! Il numero 30, Daniele! Padelli! Il numero 5, Cesele! Bovo! Il numero 25, Giammini! Lì, 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 lì! Il numero 24, Emiliano! Moretti! Il numero 15, Giammini! Maximović! Il numero 4, Micele! Marsha! Il numero 20, Giuseppe! Vives! Il numero 7, Toma! E' il Catturi! Il numero 25, Mato! Pesovic! Il numero 25, Aleppo! Cerci! Il numero 9, Tiro! Immabile! Abbastmiti! E' il numero 53, Lissotis! Il numero 39, Número 39, Tommaso Dele! Il numero 2, Griglielmo Rodríguez! Il numero 10, Vitor Prento! Il numero 14, 11, Alessandro Gansi, numero 34, Bartolo Palletta, numero 68, Reggardo Reggio Vitti, e numero 76, Marconis Reggis, forza Reggio, vuole e andrà, 7 e solo, Paolo Satoru!